L'itinerario della bellezza, progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord, continua a crescere. Tante e importanti le novità del 2024, dagli ingressi di ben 5 nuovi comuni nel circuito al lancio di una nuova carta chiamata Valore Bellezza. Valore Bellezza Card nasce per poter contrastare il diffondersi incontrollato dell'online delle grandi catene, che comporta ovviamente una perdita di fatturato per le nostre imprese e uno spopolamento dei nostri borghi, perché molte imprese chiudono non avendo possibilità di economicità. Un'iniziativa moderna e coinvolgente per l'economia locale. Il nuovo strumento di Confcommercio Marche Nord, in collaborazione con la start-up Valore Locale, sarà introdotto nei prossimi mesi e funzionerà come un grande sistema di fedeltà. Turisti e residenti potranno fare acquisti sul territorio, ricevendo uno sconto sotto forma di cashback vincolato. È legata ad un cashback, quindi un sistema che tutti quanti conosciamo, ma quello che cambia è che è un cashback vincolato. Quindi l'utente finale, il cliente ultimo che entra in negozio, che va al ristorante, che va in gelateria, che va ad acquistare un capo di abbigliamento, avrà all'interno della card un credito aggiuntivo che può spendere solo all'interno del circuito di questa Valore Bellezza Card. Quindi non si può spendere fuori, non si può andare a spendere online su altri siti, ma solo all'interno delle aziende che aderiscono a questo sistema. È un modo per riportare l'economia all'interno di un circuito ed è un modo per poter dare ancora più capacità di acquisto di spesa all'utente e al cliente finale, che poi è quello che frequenta i nostri negozi, i nostri botteghi, i nostri ristoranti. La card Valore Bellezza verrà presentata alle attività commerciali attraverso un tour articolato in diverse tappe. Grande successo per il primo incontro svoltosi a Fano. Per quanto riguarda i nostri incontri abbiamo iniziato con Fano, che ha ricevuto una grande visibilità e grande partecipazione, con molte imprese che hanno fatto domande su cosa potesse essere questa Valore Bellezza Card. Proseguiremo poi con gli incontri a Durbino lunedì 22 pomeriggio, 1 alle 14.30 per le attività di abbigliamento, negozi, edicole, eccetera, e alle 16 per l'attività della ristorazione, bar, comunque pubblici esercizi. Per poi tornare a Pesaro alle ore 21 dove faremo questo terzo incontro. Gli altri comuni interessati dagli incontri ad oggi sono Gabicce, Gradara e Fossombrone, ma stiamo allargando sempre più la possibilità di coinvolgere comuni dell'Itinerario della Bellezza, in quanto la richiesta da parte delle aziende è grande. Quindi l'interesse è tanto. Noi siamo pronti a, da subito, con un materiale informativo, e a dare informazioni non solo negli uffici periferici e sede centrali di Confcommercio, ma attraverso anche i punti IAT e attraverso le Proloco, che diffonderanno in maniera capillare questa possibilità. Si può richiedere anche online, ad oggi sul sito Confcommercio Marchenord.it, presto sul sito Terrenarabellezza.it, e poi avremo anche fisicamente i moduli all'interno di ogni nostro ufficio.